La scrivania di Fabio E questo qui è il tuo posto Bene Beh, io torno al lavoro, a dopo Sì, a dopo, ciao E grazie Ah, sei di Napoli? Sì, ma vivo a Milano da 15 anni Abito qui vicino in via Meravigli E tu dove abiti Gianna? In via Pacini, non molto lontano Prendo il metro in 10 minuti sono qui Anch'io preferisco i mezzi perché se prendo la macchina No, in centro in macchina è terribile Beh, al lavoro Pronto? Agenzia Viaggi e Miraggi Ciao Michela, ci vediamo domani Tu resti ancora? Sì, resto ancora un po' A domani Gianna, ciao Ciao Pronto? Ehi, ciao Renzo, come va? Sì, benissimo Lo sai, no? Oggi primo giorno di lavoro Sì, sì, tutto benissimo E tu come va? Ah, già, la tua casa è nuova Certo, certo che voglio vederla Quando? Domani? Perché no? Ciao Grazie a tutti.